Oggi appunto siamo qui a festeggiare insieme ai nostri anziani la riapertura di un centro di urno sottosanitario, quello di Via Bachelet. Riaprono le porte del centro di urno per anziani Vittorio Bachelet, una ripartenza attesa da tutta la comunità da quattro anni, da quando nel 2020 la struttura nella zona est della città era stata chiusa a causa del Covid. Una chiusura che ha tolto aiuto e sostegno a diverse famiglie del territorio, in difficoltà in questi anni per la gestione e accudimento dei propri cari. È una delle prime cose che insieme al sindaco abbiamo chiesto a IPAB proprio all'inizio del nostro mandato. Dopo quattro anni finalmente il centro di apre, proprio per mettersi a disposizione della comunità. Riapertura negli anni procrastinata a causa dell'impossibilità di reperire personale sanitario dedicato. Oggi invece è possibile grazie alla sinergia tra Comune, IPAB di Vicenza, IPARC e il gemello centro di urno Villa Rota Barbieri. In questo momento IPARC impiega una quindicina di dipendenti per questi due centri di urni. Cerchiamo di fare un modo che questo sia un servizio non semplicemente per offrire l'accudimento ad ospiti anziani, ma anche che sia di stimolo dal punto di vista cognitivo, sociale. Figure specifiche dedicate, fisioterapisti, psicologi, assistenti sociali e infermieri. In particolare dopo la completa implementazione dei 30 posti letto di Villa Rota Barbieri, oggi vengono attivati per il momento 10 posti presso il centro di urno Bachelet, ma che arriveranno presto ad essere disponibili nella loro totalità, cioè a 30 posti letto.